Certo è un ponte fondamentale che noi dobbiamo consegnare ai nostri giovani affinché i valori che ci sono stati tramandati dai nostri padri e dai nostri madri non si perdano. L'entusiasmo e il ricordo devono stare sempre vivi nei nostri cuori e dobbiamo presentarci ogni anno a questa ricorrenza con la stessa attenzione, con lo stesso entusiasmo, consapevoli di quanto importante sia stato quel momento, quel periodo per la storia della nostra Repubblica. Grazie a tutti.